Viene intitolato questo pomeriggio il centro sociale al compianto Vescovo Kenis. Ne parliamo con il presidente del centro. Sì appunto era da tempo che si pensava di intitolarlo a un personaggio, a una persona che è stato da noi diverse volte e ci ha lasciato un buon ricordo e abbiamo pensato a questa intitolazione. Un ringraziamento alla cura di Vescovile, al nuovo Vescovo Sua Eccellenza Luigi Marucci, al Sindaco e a tutte quelle persone che ci hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. Ecco, Vescovo Marucci, un commento su questa intitolazione con il nome del compianto Kenis al centro sociale. Io sono estremamente felice perché al mio compianto predecessore viene intitolato questo ambiente, che è un ambiente di gioia ma anche nello stesso tempo di sofferenza, perché si trovano insieme delle persone che con l'andare degli anni portano con sé anche, diremmo, delle cicatrici di sofferenza e di malattie. Sono grato, ripeto, all'amministrazione di questo circolo e all'amministrazione comunale per avere intitolato questo centro al mio predecessore.